Le 4038 Ford GT prodotte tra il 2005 e il 2006 traggono ispirazione dalla leggendaria Ford GT 40 che occupò tutti e tre i gradini del podio nella 24 ore di Le Mans del 1966. Priva di fibre di carbonio e assistenza computerizzata la Ford GT può sembrare obsoleta se paragonata alle moderne supersportive. Come dimostrava già il suo predecessore tuttavia in pista sono i numeri a fare la differenza. Il V8 in alluminio da 5,4 litri è montato nella parte centrale posizionato in basso rispetto al telaio. L'auto è sovralimentata per produrre 550 CV a 6500 giri al minuto e può passare da 0 a 100 in 3,7 secondi. Anche viaggiando a 320 km orari si mantiene reattiva e garantisce una guida sicura e pulita. Nonostante a prima vista sembri identica alla Ford GT 40, la Ford GT è di fatto più lunga, più larga, più alta e molto diversa nella struttura. Col modello del 2006 furono aggiunti due nuovi colori alla palette della Ford GT riservate a un'edizione limitata con particolari schemi di verniciatura. Il grigio tungsteno con strisce argentate e le particolari livrei in blu o arancio Heritage.